5 serie tv da vedere se ti è piaciuta Mare Fuori, anzi farò di più, ti darò 10 serie tv da vedere se hai amato Mare Fuori, te ne dirò 5 che si ispirano molto di più a quello che abbiamo visto su RaiPlay e sulla Rai con Mare Fuori e altre 5 serie tv che per l'argomento trattato potrebbero sicuramente piacerti. Ciao, sono Valerio Novara. Mare Fuori è una delle serie più viste del momento e è sicuramente diventato un fenomeno globale anche grazie al fatto che Netflix ha messo le prime due stagioni sulla sua piattaforma. Abbiamo visto tutti quanto ci si sta appassionando alla storia di questi ragazzi in questo carcere minorile e in questo video ne vorrei approfittare per consigliarvi altre serie tv che trattano di argomenti simili o dalle quali Mare Fuori prende spunto. In un video precedente ho parlato delle analogie con alcune serie tv del passato di genere crime, soprattutto italiane, dalle quali Mare Fuori sicuramente ha preso qualche spunto e dalle quali sicuramente troviamo alcune similitudini per quanto riguarda la trama e per quello che succede. Ovviamente non è una classifica dal migliore al peggiore, fate voi, ma sicuramente dopo aver finito Mare Fuori viene la voglia di continuare a vedere qualcosa che ti tenga incollato alla tv. Quindi cerchiamo di capire quali sono le serie tv, farò una distinzione, prime 5 serie tv molto più simili all'argomento trattato in Mare Fuori e altre 5 serie tv che potrebbero piacerti se hai apprezzato la serie tv più vista del momento. Partiamo subito con Romanzo Criminale. Romanzo Criminale è una serie che è stata forse la capostipide del genere crime italiano. È una serie che, dico subito, si può trovare solo su Now e quindi solo chi ha l'abbonamento a Sky Now, Now TV, può rivedere le mitiche due stagioni di Romanzo Criminale. La regia di Stefano Sollima è una serie che ci ha riportato negli anni 70 con la banda della Magliana, il libanese, il bufalo, il dandy, il freddo, tutti i personaggi che sono entrati nel mondo cinematografico e nell'immaginario di una generazione che è cresciuta con questa serie sui criminali che ripercorre il romanzo di Giancarlo De Cataldo, appunto un romanzo criminale e che parla dei protagonisti della banda della Magliana e di come questa raggiunse l'apice e poi andò verso l'oblio, verso la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90. Romanzo Criminale è una delle serie dalle quali Marefuori prende più spunto, ne ho parlato, dicevo, in un altro video, ci sono alcune similitudini proprio di cose che succedono all'interno di Marefuori e vi invito quindi a vedere anche l'altro video dedicato alle similitudini tra Romanzo Criminale e Marefuori. La seconda serie che vi consiglio, se non l'avete vista recuperatela, Cinque Stagioni Gomorra, la serie che adesso è disponibile su Prime Video, quindi se avete l'abbonamento ad Amazon Prime Video potete rivedere la storia del clan dei Savastano a Secondigliano e Gomorra è stata forse la serie ancora più di romanzo criminale apprezzata anche all'estero oltre che in Italia. È una delle serie che è andata per la maggiore negli ultimi anni e se non avete visto la serie vi consiglio di recuperarla o di rivederla perché è sempre un piacere, anche perché a differenza di Romanzo Criminale che è ambientata a Roma ovviamente Gomorra è ambientata in Campania, tra Napoli, Secondigliano, Scampia e sono cinque stagioni che potete trovare su Prime Video e che insomma ci riportano nel mondo del clan dei Savastano con il boss Don Pietro Savastano, il figlio Jenny e Ciro Di Marzio che era il braccio destro di Don Pietro e Donna Emma tutti i personaggi ai quali ci affessioniamo, che riusciamo a empatizzare con loro e che ci portano con una crudezza anche molto reale, molto verosimile in una situazione che prende spunto dall'omonimo racconto di Roberto Saviano. È differente rispetto al film, c'è anche il film Gomorra che invece trovate su Netflix e anche il film di Romanzo Criminale che trovate ugualmente su Netflix anche qui, se non avete visto i film, se non avete visto queste due serie tv storiche della televisione italiana, vi consiglio di recuperarli. La terza serie tv che vi consiglio e immagino che molti di voi l'avranno già vista è su Burra. Anche qui c'è il film e la serie tv, trovate entrambe su Netflix la serie tv secondo me è molto meglio del film protagonista un Alessandro Borghi in gran forma sia nel film che nella serie tv parla di questo ragazzo Aureliano a Roma, ambientato a Roma con molto più recente rispetto alle vicende raccontate in Romanzo Criminale la sua storia si interseca con quella di Spadino, lo zingaro e con Gabriele, il bravo ragazzo, il cosiddetto bravo ragazzo e insomma loro tre si ritroveranno a far fronte con la criminalità dei sobborghi di Roma Subburra, una serie che mi è piaciuta tantissimo e che si è chiusa quando si doveva chiudere che non dura tantissimo e che consiglio di riguardare sempre anche perché anche da Subburra a mare fuori ha pescato qualcosina Quarta serie tv ci spostiamo però negli Stati Uniti perché è una delle prime serie tv che io abbia mai visto in vita mia e che è prison break per il semplice fatto che è ambientata in un carcere la storia parla di un uomo Michael Schofield che raggiunge il fratello in carcere per tentare di salvarlo e di liberarlo per impedire che venga ucciso sulla sedia elettrica per un omicidio che non ha commesso è emblematico il discorso dei tatuaggi di Michael Schofield che insomma saranno determinanti all'interno di questo carcere ed è forse la prima serie tv che ci fa esplorare il mondo del carcere e tutte le vicissitudini che accadono all'interno di un carcere questa è una serie tv che è di 5 stagioni le prime 4 bellissime la quinta forse si poteva evitare ma resta sempre una delle prime serie tv sul genere carcerario che consiglio sempre di rivedere sempre con piacere Quinta serie tv che vi consiglio ci spostiamo leggermente dal discorso carcere per affacciarci sulla storia di ragazzi e in particolare adolescenti torniamo in Italia con Scam Italia una delle serie tv che ha fatto più successo e che però è partita un po' in sordina a dire la verità anche perché esplora il mondo dei teenager e però è fatta molto bene non cade nel banale e affronta tantissimi argomenti quali la scoperta della sessualità la scuola il bullismo e sicuramente l'amicizia e l'amore Scam Italia tutte le stagioni le trovate su Netflix super consigliata anche perché credo che sia una delle più riuscite in Italia su questo genere torniamo sulla Rai per consigliarvi la serie tv Un professore che trovate su RaiPlay e che è composta da una stagione di 12 episodi stanno facendo la seconda stagione arriverà e che parla rispetto a Marefuori ciò che la accomuna con Marefuori è sicuramente la presenza dell'attore Nicolas Maupas che in Marefuori interpreta Filippo o Ghiattillo in questa serie c'è anche Alessandro Gasman che interpreta appunto un professore di filosofia che arriva in questo liceo di Roma frequentato dal figlio il personaggio interpretato da Nicolas Maupas e che insomma produrrà un bel po' di trambusto all'interno della scuola ma soprattutto all'interno della vita privata del ragazzo in un vortice di segreti e bugie tra i due che li porteranno comunque a vivere delle situazioni abbastanza problematiche ed è una serie molto particolare che comunque è ben fatta e per essere una serie tv italiana della Rai di questi tempi devo dire che l'ho veramente apprezzata soprattutto per le interpretazioni dei due protagonisti sempre per rimanere in tema Nicolas Maupas altra miniserie interessante sempre della Rai che si compone di dieci episodi è Nudes una serie che esplora l'argomento del revenge porn ovvero il fatto di vedersi pubblicati contenuti personali di nudo o espliciti da altre persone senza il proprio consenso la storia insomma segue tre protagonisti tre ragazzi che alle soglie dell'età adulta devono fare i conti con il revenge porn che è un tema attualissimo e che secondo me andava trattato e la serie lo tratta nel modo giusto e ci fa riflettere insomma su una problematica che accomuna tantissime persone e che può coinvolgere tantissime persone anche a loro insaputa Nudes la trovate sempre su Rai Play dieci episodi consigliata da vedere sicuramente per riflettere su un argomento molto delicato sempre su Rai Play poi vi consiglio di dare un'occhiata a Mental una miniserie di otto episodi in cui troviamo anche un'altra attrice di Marefuori che è Nina e che esplora questi ragazzi che si trovano all'interno di una casa di cura psichiatrica quindi ragazzi con problemi psicologici che affrontano l'adolescenza e che insomma si troveranno di fronte delle sfide davvero importanti è una serie che va vista soprattutto per i temi forti che vengono trattati e che comunque insomma devo dire che la Rai si sta ben comportando sulle produzioni italiane perché è una serie che secondo me può piacere e poi otto puntate insomma si fanno guardare si fanno ben guardare e sono abbastanza scorrevoli è una serie che parla di questi ragazzi con problemi psicologici la loro voglia di fuga di evadere e di crescere all'interno di una struttura che comunque sia li mette a dura prova sia dal punto di vista fisico che psicologico insomma vi trasporteranno in un turbinio di emozioni contrastanti anche abbastanza forti e consiglio assolutamente di vederla la trovate su Raiplay spostiamoci un attimo su Netflix per consigliarvi una miniserie di sei puntate che si intitola Dietro ai suoi occhi ed è un thriller psicologico a tutti gli effetti a rispetto a Marefuori secondo me si può apprezzare il fatto che le sei puntate ti tengono incollate per cercare di capire cosa succede anche perché c'è questo triangolo amoroso fra una donna che diventa l'amante del suo capo che fa lo psichiatra e che però allo stesso tempo instaura una profonda e misteriosa amicizia con la moglie di questo di questo psichiatra ci sono molti elementi soprannaturali che però possono essere verificati perché ci sono alcune teorie io non vi sto a spoilerare quello che succede che sostengono che questa cosa cioè la cosa che accade alla protagonista nel corso delle puntate possa essere vera e possa accadere a molte persone dietro ai suoi occhi il titolo è molto forte tratto da un romanzo e vi consiglio di guardarlo su Netflix se ancora non l'avete fatto chiudiamo la nostra carrellata di serie tv con una serie da vedere sempre su Netflix e che si chiama Fedeltà ne ho parlato in una recensione in uno dei miei video precedenti narra di questa coppia tra l'altro la protagonista è Lucrezia Guidone che è la Sofia di Marefuori 3 che prende il posto della direttrice nel carcere minorile di Napoli una coppia che apparentemente sembra felice conosce la via dell'infedeltà e quindi entrambi sia lui che lei iniziano delle relazioni extraconiugali che li porteranno insomma a perdersi e a ritrovarsi all'interno di una serie che esplora i desideri più reconditi dell'animo umano fatemi sapere se le avete viste queste serie tv appuntatevele mi raccomando perché so cosa significa la insomma depressione che ti assale al termine di una serie tv non vedi l'ora di iniziarti qualcos'altro ce n'è per tutti ho cercato di fare un mix di argomenti e di temi che possono piacervi e se le avete viste tutte quante vi consiglio di recuperarle iscrivetevi al nostro canale youtube ciac e azione mi raccomando attivate la campanellina per restare aggiornati su tutti i nuovi video che facciamo ogni giorno seguiteci su facebook e instagram ciac e azione per restare aggiornati su tutto quello che riguarda il mondo del cinema e delle serie tv al prossimo video